Buongiorno a tutti, la posizione di oggi è una posizione molto interessante e complessa in cui il blu, in vantaggio per 10 a 6, deve rientrare dal bar, ma ha un prime da 6, quindi un full prime che blocca una pedina dell'avversario che ha anche tre blot nell'outfit. Gli esperti che ci aiuteranno a commentare e analizzare questa posizione sono Isacco Ibba e Marco Tamigi. Ciao Isacco. Ciao Gianazzaro. Ecco la posizione. Il blu è al tiro e ci interessa sapere come ragioni sulla azione di cubo. Ok, allora, ovviamente il punteggio 10 a 6 è ottimo, un eventuale gamma porterebbe a 12, un double pass invece sarebbe 11 a 6. La posizione secondo me è tra il double e il too good to double addirittura, perché il prime è devastante, la pedina sul bar non è di certo un problema con il golden point, quindi ho tutti i tempi da perdere che voglio. Il fatto che ci siano dei blot per il bianco mi fa propendere per il too good to double addirittura. Anche perché in una posizione del genere penso che il double lo possa dare quando voglio, sostanza. E per il bianco sarebbe per adesso sempre un pass. Quindi in realtà non vedo motivi per darlo subito. Mi sembra proprio... cioè se rientrassi sulla lancia numero uno dovrei... rischierei magari dopo di smontare il golden... ma ripeto, se anche facessi un tiro brutto tipo 1-4, no 1-4 è ottimo, 1-5 è ottimo, 1-6 per esempio, anche 1-6 è buono. Non vedo molti tiri brutti, anzi, sono tutti buoni. Quindi non rischio di smontare il prime, ho diverse somme che fanno addirittura colpire la seconda, quindi mi farebbero giocare per il gammon. Il mio double penso che sia sempre seguito da un pass, quindi non vedo nessuna ragione per dare il cubo. Per me è too good to double questo. Anche se il punteggio è verso la fine c'è poco da affare. Qui siamo messi troppo bene. Faremo più dell'80% probabilmente per il blu. Quindi per me è too good to double. Pass. Ok, spiegazione chiarissima. Grazie e arrivederci. Prossima. Ciao Marco. Ecco ti una posizione interessante. Sì, 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 molto, molto, molto interessante. Perché qua abbiamo un po' di fattori in gioco. Allora, la prima cosa che qua, sulla quale possiamo ragionare, è il punteggio. Siamo 10 a 6, ossia 3 away contro 7 away, che è un ottimo punteggio per il blu. Quindi, come si dice, bisogna cercare in questi casi di fare economia e non, insomma, pensarci bene prima di dare un raddoppio. Allora, vediamo i tiri brutti del blu. Sono 1,3 e 5,3, che costringerebbero il blu a scoprire, a non avere più il prime. Però di questo ci sono anche dei tiri che farebbero perdere il mercato, se non addirittura andare sul too good. 1,5, doppio 5, ma insomma, tutti i lanci dove semplicemente il blu esce, ecco, dirottano la partita verso un esito positivo. Poi c'è anche una sorta di controragionamento, cioè qui si può ragionare anche dicendo, vabbè, ho il prime, ho il golden, sai che c'è? Do questo dado, penso che lo passa e vado a incassare un punto sicuro e mi porto due away. Ecco, quindi c'è proprio una serie di ragionamenti un po' controversi, direi. Insomma, siamo praticamente per qualche motivo sul no double, per altri motivi sul too good, e per altri ancora lo do, tanto non lo prende incasso. Quindi, quindi, visto la differenza di punteggio, visto anche che ho solo quattro dadi brutti, che sono 1,3, 5,3, ah no, c'è anche il doppio 1, che non è bellissimo. Vabbè, però non fa neanche schifo. Allora, io mettendo insieme tutte queste cose, direi che se fossi l'azzurro mi sentirei di dare questo double. E adesso dovrei mettermi dall'altra parte e capire se da parte del bianco prendo questo double. Un motivo che mi spingerebbe a farlo è per il punteggio, perché, insomma, sono sotto e prima di rifiutare un double ci penso bene. Io qui, a essere il bianco, insomma, non mi piacerebbe moltissimo prendere questo double. Vediamo magari altri sviluppi possibili. L'azzurro potrebbe anche danzare. Cosa succede se l'azzurro danza? succede che il bianco muove quelle pedine sull'outfield. Qual è la peggior cosa che può capitare? Può capitare che mi fa il bar, ma io anche se mi fa il bar non sono bloccato, perché è un piccolo prime da 3 che scavalco abbastanza facilmente. Quindi facendo tutti questi ragionamenti propenderei per il double. Essere il bianco... Essere il bianco... Ma io... Questo double... Forse lo lascerebbe. Ah beh, sì, c'è anche un'altra cosa che può succedere, che mi fa una casa che può anche non essere il bar, che può essere anche la casa 9, la casa 10, la casa... No, la casa 11 anche volendo. Sì, dunque... C'è una remota possibilità che... Che l'azzurro faccia un tiro storto e rimanga bloccato. Però anche rimanere bloccato... Insomma... Non sarebbe messo così male. Sì, sono molto molto indeciso su questa posizione e mi rendo conto che mi sto dilungando anche un po' troppo. Allora, vediamo un po', vediamo un po', se fossi in partita, che cosa farei? Allora, io sono mangiato, devo rientrare, ho la possibilità di colpire una pedina fuori e questo renderebbe il game un too good e nello stesso tempo... Ho paura di incastrarmi. Sì, ecco, c'è un'altra cosa che può succedere. Posso magari rientrare sull'uno, le due dal golden escono, però quella sull'uno rimane incastrato. Ecco, questa è un'altra possibilità che non avevo considerato. Tutto sommato, comunque, sì, penso che darei questo cubo. Il cubo l'hai già dato molto tempo fa, stai decidendo se accettarlo o no con il bianco. Sì, 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 sì. Ah, ma stavo... Stavo cercando di capire se sono proprio convinto di darlo. Sì, 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 ok, dai, lo do. E poi, allora, qui si tratta solo di capire che fa il bianco. Il bianco in questa posizione qua... A lo prende e spera di ribaltare la situazione. B lo passa e dice, intanto, tre away o due away non mi cambia tantissimo. Però ecco, ci sono quelle peculiarità che avevo considerato prima, quindi... Tutto sommato, un take ci può stare. Sì, vabbè, a questo punto lo score è già compromesso, quindi al posto del bianco prendo questo cubo e spero nel jolly. Spiegazione chiara, molto sofferta, ma comunque hai esposto un po' tutte le problematiche della posizione. Quindi grazie e arrivederci alla prossima. Grazie a te. Au revoir. Abbiamo visto che questa posizione ha messo abbastanza in difficoltà i nostri esperti. E anche me, se devo essere sincero, quando ho seguito la partita in diretta. Quello che è difficile vedere è che il bianco ha parecchie possibilità di vittoria. Se guardiamo l'analisi di XG, vediamo che il bianco ha ben il 25% di possibilità di vittoria. E, a causa del punteggio, siamo in una situazione di no double. Cubare è quasi un blunder. Passare poi col bianco è un blunder enorme, superiore ai 300. C'è da dire che il bianco, giocatore molto forte, ha passato senza quasi esitare. Anch'io avrei passato senza esitare. Quindi, questa volta abbiamo esaminato una posizione sicuramente complessa. Ma spero che sia stato interessante. Grazie dell'attenzione e arrivederci al prossimo episodio.